In Bulgaria va a casa il governo di Boiko Borisov. Quello che non è riuscito a fare l'opposizione lo hanno fatto bollette dell'elettricità troppo onerose. Nelle ultime settimane gli aumenti sono stati talmente elevati che la gente è scesa in strada in tutto il paese. Per questo l'ex premier ha dichiarato in Parlamento, il popolo ci ha dato il potere e può anche togliercelo. Non farò rimpasti. Borisov è poi stato applaudito dai suoi anche se ha dovuto rimangiarsi la parola perché solo qualche giorno fa aveva negato ogni dimissione. L'elettricità in Bulgaria è distribuita da tre compagnie straniere. Lo Stato non ha i soldi per nazionalizzarle e queste tre sono accusate di aver fatto cartello e gonfiato a dismisura le bollette. Dagli aumenti le violente proteste di piazza, proteste che la polizia non è riuscita a controllare. Grazie. E' un po' Wrightista si riuscita la polizia non è riuscita a guienzo. E' un po' Grazie a tutti.